Quindi introduciamo il cosiddetto dei formati di file, l'esempio, torniamo purtroppo sempre su PDF, però formati aperti di file sono un sottinsieme di standard aperti, cioè abbiamo capito cosa sono gli standard aperti, adesso rimaniamo, cioè andiamo sempre più verticali e ci chiudiamo nel mondo dei formati di file. Quindi abbiamo il PDF che è un esempio, ma c'è il doc, il docx, già la differenza tra doc e docx vi è chiara, doc era il vecchio standard di Microsoft per i documenti doc, quelli che voi chiamate volgarmente documento Word, che è sbagliatissimo, dire un documento Word non stai dando l'informazione corretta, perché documento Word potrebbe essere, voi provate ad aprire Word e vedete quanti tipi di file riesce a gestire Word, quindi quando vi dicono mandamelo in Word non vi hanno dato un'informazione corretta, completa perché Word gestisce il doc, il docx, l'rtf, l'odf, il txt, tutti, quindi dire formato Word è sbagliato, perché non è il formato, Word è il software che gestisce vari formati, quindi se tu vuoi individuare un formato devi dire docx, doc, rtf, txt, che sono i vari formati di file testuale. Una definizione più precisa che quella fornita dall'Agenzia per l'Italia Digitale, Agid, di formato di file aperto, è questa. Il formato dei dati digitali si definisce aperto quando ne viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e la modalità di utilizzo. Tali informazioni, unitamente ad una guida all'uso del formato, orientata alla lettura da parte dell'utilizzatore, devono essere presenti in uno o più documenti rilasciati dall'ente proponente, lo standard. L'ente proponente può essere un ente di standardizzazione, una pubblica amministrazione, una comunità di utenti. Questo ecco un grafico che ho fatto io per la mia tesi, che poi era diventato il libro Apreti Standard, che mette in rapporto i concetti che abbiamo visto finora, cioè il concetto di standard informatico, di formato di file, che se vedete si intersecano, ma poi si sovrappone con il concetto di open, di apertura. Quindi sono due macro insiemi, quelli di standard informatici e formati di file, che si intersecano per una buona parte. E abbiamo i formati standard. Ma se io sovrappongo la categoria dell'openness, dell'apertura, che è quella grigia, mi si crea quel sotto-sotto insieme, potremmo dire. I formati standard aperti sono quelli che in teoria vengono definiti appunto da Agide e che le pubbliche amministrazioni dovrebbero, nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, utilizzare. Però adesso è vero. Allora, è vero. C'è una questione di fondo, nel senso che il docx, tutti i formati dell'open.xml, che sono quelli di Microsoft, che ha chiamato furbamente open.xml, sono dei formati proprietari che Microsoft poi ha fatto in modo di far passare per standard open. E quindi certo, adesso... Sì, sì, sì. Tutti sanno come si fa un docx, come se... Quindi, se stiamo ad una definizione di quel tipo lì, è vero. Se vediamo poi di preciso come sono stati fatti, boh, c'è ancora... La community è ancora un po'... No, sì, sì, sono d'accordo. Allora, è molto ideologica la questione. Cioè, se tu vai a leggere... Il periodo in cui c'è stata la battaglia tra... Contro... C'è stata tutta una campagna contro l'approvazione del formato open... Office OpenXML, si chiamava. Office OpenXML, non OpenOfficeXML, perché sennò si fa confusione con OpenOffice, che era il software. Perché? Perché a metà degli anni 2000, 2006-2007, quegli anni lì, c'era già uno standard che era open, approvato a livello internazionale dagli enti che abbiamo visto prima, che era l'ODE, Open Document Format, che era il formato aperto legato a OpenOffice, adesso chiamato LibreOffice. Ovviamente Microsoft è arrivata e ha detto, no, abbiamo anche noi uno standard, anche noi lo chiamiamo Open. E praticamente hanno preso i loro vecchi standard e gli hanno aggiunto una componente di XML, che è il motivo per cui è diventato DOCX, XML, no, XL, XLS, X in fondo. E quindi quello, ovviamente con delle pressioni non da poco sugli enti di standardizzazione, Microsoft è riuscita a farsi approvare il loro formato, quello con la X in fondo, diciamo, come se fosse un altro formato aperto. Con la fregatura che però adesso ne abbiamo due, che fanno la stessa cosa, che si sovrappongono e quindi, no, standard dovrebbe essere standard se tutti usano quello lì. Se tu me ne fai nello stesso, allora possono essere ce ne due perché uno è arrivato dieci anni prima e l'altro dieci anni dopo. Allora puoi dire, vabbè, sai, sono cambiate le cose, la tecnologia si è evoluta. Ma quelli lì sono stati approvati di uno nel 2006, l'altro nel 2007, cioè in anni vicini e quindi era palese che era un'attività per, come dire, mettere a tacere, escludere lo standard open che faceva paura perché avrebbe portato la diffusione anche del software e quindi, cioè vedete come il formato di file trai nel software e viceversa, il discorso che facevamo prima. Voi dite ingenuamente mandemolo in formato Word, mandemolo in formato Excel, state usando il nome del software per chiamare il formato. Ma si fa anche il contrario, cioè se tu hai tutti i dati salvati sul tuo hard disk e hai cartelle con le file con le macro di Excel, quindi di Microsoft, oggettivamente quando passi su altri software fa casino. Fa casino. Perché? Perché non sono standard. Perché se fossero davvero standard, no, se fossero davvero standard tu li apriresti anche con LibreOffice o anche con quello di, come si chiama, con quello in cloud di Google, no, Google Docs, Google Drive, adesso a seconda di come lo chiamano. Il fatto che ogni volta si perdano pezzi implica che non sono davvero standard. Perché se fosse standard io non dovrei avere problemi ad aprire quel file a seconda del software che utilizzo. E quindi se noi abbiamo sempre questo legame stretto tra software che utilizzo e il suo formato nativo, non abbiamo fatto un passo avanti. Siamo come erano anni fa. Semplicemente adesso abbiamo quattro cose, cioè li chiamiamo tutti standard, ma sono comunque estrettamente legati all'ecosistema da cui provengono. E quindi non sono davvero standard. Questo era un po' il dibattito che... Poi una volta avevo parlato, quando ho fatto qua il dottorato, avevo andato a parlare con un professore, che dopo ti dico il nome, che era quello del giro informatico, lui mi aveva detto che... Insomma, erano un po', scusate la parola, un po' segmentali, ma è vero. Nel senso che diceva, alla fine, dal punto di vista informatico, un informatico, l'importante è che sappia come è fatto il formato. Poi è chiaro che l'utonto finale, quando prova ad aprire il file e se lo vede tutto sballato, va in panico. Però dal punto di vista puramente tecnico-informatico, l'importante diceva che le specifiche siano pubbliche, che siano chiare a tutti. Poi sul fatto che si potrebbe fare meglio, quello lui diceva, è un discorso di user experience, cioè si potrebbero fare i software, gli applicativi meglio, in modo tale che se l'utente trova le cose in modo diverso, può schiacciare un tastino e ritrovarsi il suo documento. Probabilmente chi è che interessa fare questo? In più aggiungiamo, e chiudiamo la parentesi sui software, adesso molto del software si sta spostando in cloud, quindi il controllo è ancora di più nelle loro mani. Cioè voi non avete neanche più installato il software, voi usate Office 365, vi loggate, in realtà il software, quello che abbiamo detto prima, Google Docs, voi avete una password, una username e una password, ma il software sta sul server di Google. I dati sono là, che a volte è una gran soluzione, non lo nego, cioè quando tu hai computer lì a Pavia dei miei clienti, che tu conosci, li usiamo, c'è gente che usa Mac, c'è gente che usa Linux, c'è gente che usa Windows, i documenti si scassano sempre, sempre, e quindi alla fine molte cose abbiamo trovato la soluzione che si usa nei Google Docs, perché i Google sono documenti che sono uguali per tutti, perché passi dal browser, e quando hai definito che il documento è chiuso, lo scarichi e te lo sali, basta. Comunque, chiuso discorso, sì sì, ma infatti ci siamo.